Bene, oggi cuciniamo fegatelli di galline, al quale aggiungiamo cipolla di tropea e pepe rosso, nostro salvatore. Una preparazione semplice, gustosa, molto interessante, gradevole. Bene, la prima cosa che faremo prendiamo una bella cipolla di tropea, eccola qua, la facciamo a rondelline. Ok. Bene, accendiamo il fuoco, olio extravergine di oliva, quando basta, cipolla di tropea, facciamo una girata in modo che se ne va tutta l'acidità della cipolla, la facciamo polarizzare. Fatto ciò, io ho già lavato i fegatelli, si aggiungono qua di qui. Bene, si girano con due barchette di legno, un po' come i cinesi. Mettiamo un po' di pepe, non troppo che molto piccante questo, pepe salvatore con cayenne, con pepe cayenne. Saliamo quando basta. si aggiunge anche un po' di origano. una preparazione molto veloce, massimo metterete dieci minuti al completo, sia tra la preparazione e la cottura finale. Bene, come vedete siamo quasi sul punto di cottura. Bene, i nostri fegatelli di gallina con cipolla di tropea, origano, pepe macinato salvatore, sono pronti, ovviamente olio extravergine d'oriva, adesso li andiamo a gustare con pane casareccio e una birretta fresca. Alla prossima occasione da Michele Experte siamo a Croparati, provincia di Cosenza. e la parola. Alla prossima occasione da Cosenza. Come vedete!